L'occasione è nobile, commemorare la morte di Pinuccio Tatarella, il ministro dell'armonia, nella sua Cerignola. Appuntamento che il coordinatore provinciale di Futuro e Libertà della provincia di Foggia, Fabrizio Tatarella, fa coincidere con la sua presentazione della candidatura alle prossime elezioni politiche. Scelta strategica sì, ma soprattutto di cuore. Io ho scelto di presentare oggi la mia candidatura in questo giorno triste per la destra italiana, perché a prescindere da quello che sarà il risultato elettorale, da oggi comincio un impegno e un percorso personale, che è quello di ricostruire tutto un mondo che oggi è diviso in 4-5 partiti, proprio per far ritornare l'armonia, per riunire una destra italiana che oggi è dispersa e che proprio in Puglia, la terra che lui definiva, parafrasando Goethe, degli incominciamenti, è stata forire dei risultati per la destra italiana. Ricordarlo oggi significa ritornare insieme, senza polemiche. Tutti fanno bene a ricordarlo, senza distinzioni, perché in tanti ci siamo riconosciuti in lui, però dobbiamo avere il coraggio di guardarci negli occhi, senza polemiche, e di ricominciare un percorso immediatamente dopo le politiche. Questo è il mio impegno personale. L'incontro, ospitato nella Sala Consigliale del Comune di Cerignola, alla fine non è solo una semplice rievocazione di Pinuccio Tatarella, ma occasione per fotografare l'attuale momento politico italiano, con la Seconda Repubblica ormai agli sgoccioli, come sostiene il coordinatore nazionale di Futuro e Libertà, Roberto Menia. Orgoglioso, sono sue parole, di non far parte del centro-destra cooptato da Silvio Berlusconi, convinto che il messaggio di Pinuccio Tatarella debba servire per sanare la diaspora della destra. Credo che una comunità, anche se è frazionata, se è divisa, se oggi non si ritrova o si trova su più filoni, in un giorno che è particolare, ricordo uno di quelli che in qualche modo è tra i suoi padri spirituali, tra i suoi padri nobili, Pinuccio Tatarella non è solo figlio della Puglia, è stato un figlio d'Italia che ha dato molto alla destra italiana in termini di visione prospettica, in termini di idealità, in termini anche di costruzione, poi di prassi politica. Non a caso era il ministro dell'armonia, è un uomo che per tanti versi è stato simbolico proprio per la stagione più bella, almeno della stagione recente, della destra italiana. Oggi è logico che in tanti ne riparlino, e dico però non per un senso di riappropazione che potrebbe essere anche brutto in campagna elettorale. È prima di tutto il sentimento dei tanti che si sentono, perché no, anche orfani di Pinuccio.